Il sindaco di Vallefoglia, Palmi Rucchielli, ha inviato in settimana una lettera al Governo centrale per esternare la ferma opposizione ai nuovi tagli previsti dalla legge di bilancio sui comuni che ammonterebbero a 130 milioni per il 2025 e a 440 fino al 2029. Tagliare i comuni significa tagliare i servizi ai cittadini o costringere i comuni per far quadrare i conti del bilancio ad aumentare le tasse, quindi mi pare un'operazione del tutto sbagliata. Comuni e province sono gli enti più vicini ai cittadini, soprattutto i comuni, quindi credo che, spero che il Governo, il Ministro dell'Economia, la Presidente del Consiglio dei Ministri possa ripensare e evitare, anche perché sono anni che non tagliavano più i comuni. Secondo Ucchielli a pagare il prezzo più alto di questa legge sarebbero propri comuni più virtuosi come Vallefoglia che denotano una crescita economica e produttiva così come di servizi che si riflette anche in una crescita demografica in controtendenza allo scenario nazionale. C'è un'attività fiorente di attività produttive, di fabbriche che investono e che assumono. Come si è visto c'è una controtendenza regionale e nazionale anche nelle nascite. Noi nel 2024 abbiamo 20 nati in più del 2023. Quindi diciamo che investiamo sui temi dell'ecologia e dell'ambiente perché abbiamo avuto 22 milioni di euro come Unione dei Comuni, 11 milioni di euro firmati alla sede dell'Unione dei Comuni fuori dal bilancio, la prima volta nella storia che capita una cosa del genere col Presidente della Giunta regionale e altri 11 milioni sulle piste ciclopedonali. Stiamo per sottoscrivere un accordo con la Giunta regionale, con l'assessore regionale per il riordino al circolare destra e sinistra del comprensorio pesarese e quindi una grande operazione ecologica ambientale di riduzione dell'inquinamento atmosferico. Poi abbiamo avuto una barca di soldi per quel che riguarda le politiche giovanili, quasi 200 mila euro, su progetti europei, tutti come Unione dei Comuni Pian del Brusco che è la più grande delle marche, che è la più importante e che ha un peso politico, è mezza provincia l'Unione Pian del Brusco, quindi su quella lavoriamo in maniera unitaria, coesa, anche sulle politiche socio-sanitarie, le politiche di tutela della salute delle persone.